Basta ispirare dentro questa provetta per scoprire se siamo in presenza dell'elicobacter, il batterio che aggredisce la mucosa gastrica causando gravi danni allo stomaco e all'intestino. Sono oltre 130 le farmacie marchigiane che hanno aderito all'Urea Bread Test, in grado di rilevare la presenza dell'infezione che si manifesta con dolore o bruciore di stomaco, senso di pienezza e sazietà precoce. Un'infezione che nel 90% dei casi è responsabile dei tumori gastrici. Ovviamente questa campagna è rivolta a tutti i cittadini, l'elicobacter è molto diffuso e l'eradicazione dell'elicobacter contribuisce a prevenire fino all'80% dei tumori allo stomaco. Si tratta solo di espirare in una semplice provetta come quella che si usa per le comuni analisi, l'espirato viene inviato a un laboratorio analisi che fa il referto nell'arco di 48-72 ore e lo rimanda alla farmacia che lo consegna al paziente. Per sottoporsi al test basterà rivolgersi alla farmacia aderente allo screening, che darà il suo risponso in 48 ore. Il test è su base volontaria, chiaramente il medico lo può consigliare e il farmacista lo stesso, non occorre una certificazione o una prescrizione, basta solo presentarsi oppure dopo il colloquio con il medico andare in farmacia e ritirare il test. Per tutte le fasce d'età? Sì, è per tutte le fasce d'età. Il test è a pagamento, è uno screening, il test costa indicativamente 45-50 euro compreso di referto.